Ho visto con lei lui, bacia lei, me, come in Mon Amour, il brano di Annalisa conquista le classifiche a suon di stream. Non una it in linea con l'immaginario degli Impenskina, ma che ben si presta a raccontare questi giorni della band romana. Rapporto tra il cantante e Giorgia Soleri, storica fidanzata del leader degli Zitti e Buona Band, sì. Conferma e a confermarlo stato, senza fastidio, lo stesso Damiano David, che, potendo ignorare vicenda, ha pubblicato una nota tra le sue Instagram Stories per chiarire il suo punto vista ero mi dispiace molto sia uscito video, era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore.Giorgia ed io abbiamo deciso lasciarci ormai da qualche giorno, quindi ci sono stati tradimenti nessun tipo.Spero che questo infritto all'immagine Giorgia e si possa rispettare delicatezza momento, ha scritto il 24enne cantante romano ai suoi 5,2 milioni follower. Nessuna replica da parte di Giorgia Soleri, che un mese fa ha pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva tra le braccia del cantante. I due si conoscevano da otto anni. Damiano aveva dedicato, tra altri, Timezone, brano tratto dall'ultimo album della band, Rush, in cui il cantante parlava del rapporto a distanza con Giorgia, che un anno fa l'aveva anche accompagnata alla Camera dei Deputati per sostenere la campagna di sensibilizzazione della Soleri sul vulvo di Nia e la neuropatia del pandi. La nuova fiamma cantante, Martina Taglienti, romana, classe 2001, è una persona nota ai fan dei Mane Skin tra gli amici più stretti della bassista Victoria De Angelis, negli ultimi mesi ha più volte raggiunto Damiano e gli altri membri band in giro per il mondo. Giorgia Soleri, che in passato aveva sostenuto essere sempre definita la fidanzata di Damiano, aveva rimosso l'account Damiano David dai profili seguiti su Instagram. Damiano dei Mane Skin bacia una ragazza in discoteca, il video finisce sul web. Abbiamo rotto con Giorgia Soleri, non è un tradimento uno fan dei Mane Skin che, forse un po' gelosi Damiano, hanno più volte attaccato Giorgia Soleri sui social odio sull'odio, richiesta costante di mostrare quanto e come sono cattivo, aveva tuonato Soleri. Loro erano invece dalla sua parte, aspettando poco più qualche giorno essere visto con un altro dopo la fine una storia che dura, sembrava brutto? Qualcuno, tuttavia, non ha mancato di fare ironia quindi adesso non è nemmeno la ragazza di Damiano dei Mane Skin.